Il cambiamento nella continuità, così Ginetta Menchietti, sindaco confermato di Civitella in Valdichiana, ha definito la giunta appena nata tra conferme e new entry. Abbiamo la conferma dell'assessore Elio Randellini, al quale sono state attribuite le deleghe che già deteneva nella scorsa legislatura, aggiungendo le politiche scolastiche. Poi abbiamo tre new entry. Nel cercare di costituire questa giunta ho ricercato competenze, ho ricercato qualità, ho ricercato passione e stimoli. Alcune deleghe sono tenute dalla sottoscritta e tra le deleghe principali che mi sono tenuta sono il bilancio, l'urbanistica, la polizia municipale, la comunicazione e gli affari generali. Il 23 giugno sarà appunto il giorno in cui ci sarà il consiglio di insediamento e quindi cominceranno davvero i lavori. Primo obiettivo della giunta? Primo obiettivo della giunta? Non abbiamo solo un obiettivo, ne abbiamo almeno tre. Entro settembre andremo ad inaugurare un nuovo centro di cottura per tutte le strutture pubbliche del territorio, andremo a completare i lavori di riqualificazione di una piazza, la piazza di Tegoleto e il terzo obiettivo molto importante è il trasferimento dell'attuale RSA di Civitella su un locale a Piavaltoppo accanto al centro di urno e andremo così a costituire un vero polo per anziani che ritengo un'importante risposta per le persone più fragili, appunto per gli anziani stessi. Le mie deleghe sono quelle che avevo nel precedente quinquennio, che sono quelle politiche sociali e sanitarie, quest'anno si aggiunge le politiche scolastiche. Il mio impegno è stato massimo nel primo quinquennio, spero di essere altrettanto all'altezza e ci metterò lo stesso impegno per completare quello che abbiamo iniziato e magari sviluppare anche nuovi progetti. Svolgerò la funzione di vice sindaco e a me sono state assegnate le deleghe relative al commercio e all'attività produttive oltre che le deleghe in materia di promozione del territorio, cultura e politiche giovanili. Ho la delega all'ambiente, innovazione tecnologica, semplificazione, fonti rinnovabili, tutti i temi cari all'amministrazione che cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi. Proprio novità non sono perché negli anni 90 ho già svolto il ruolo del consigliere in questa amministrazione, ora ho un ritorno con incarichi da assessori, nello specifico assessori a lavori pubblici, a posizione, a rapporti con le frazioni e a gemellaggio. Una vittoria importante quella ottenuta a Civitella per il Partito Democratico a Retino che in questa ultima tornata elettorale ha visto una vera e propria debacle perdendo numerose amministrazioni. Penso che sia un risultato che debba far riflettere ma in questo risultato in cui c'è molto da riflettere appunto Civitella è una stella che brilla nel cielo. Ritengo che la politica troppo spesso si è allontanata da quelli che sono i problemi ordinari quotidiani dei cittadini e dei territori. A Civitella non è successo questo, abbiamo sempre lavorato insieme ai nostri cittadini, per i nostri cittadini, li abbiamo incontrati spessissimo e non ci facciamo vedere solo in campagna elettorale. Penso che da qui dobbiamo davvero ripartire e ricostruire un PD sicuramente diverso, più solido e che rispecchi e risponda a quelle che sono le esigenze dei territori.